Altro giro, altra corsa, altra treasure map. Signore e signori, vi do il benvenuto all'ormai classica e regolare guida e team building del treasure map di One Piece Treasure Cruise. Prima di iniziare però la solita parte più fastidiosa. Vi ricordo assolutamente che va bene guardare questo video, apprezzarlo, ma cercate di mostrare il vostro supporto. Quindi se vi piace quello che state vedendo lasciate un mi piace, iscrivetevi, condividete mi raccomando e attivate le notifiche. Questo canale non fa solo One Piece Treasure Cruise, ora ovviamente è periodo estivo quindi video hanno meno frequenze, sono un po' più rari, però comunque hanno una cadenza settimanale e spaziano da appunto One Piece Treasure Cruise, anime, manga, videogiochi, insomma tutto quello che riguarda il mondo nerd. In descrizione trovate anche una serie di link, tra cui quello del neonato canale di Telegram, quindi se avete un account Telegram mi raccomando unitevi assolutamente perché non solo parleremo di One Piece Treasure Cruise ma anche di tutto ciò che riguarda il mondo nerd, ma è anche un gruppo dove si può cazzeggiare e scambiare quattro parole. E peraltro è anche il metodo migliore per rimanere in contatto con il sottoscritto e ricevere aggiornamenti sui prossimi eventi, quindi se ci saranno live, quando saranno, su cosa saranno. Le dirò tutte sul canale di Telegram, quindi mi raccomando è veramente importante che vi uniate. Ma passiamo finalmente alla Treasure Map, Treasure Map che ci vede contro la nuova Dual Unit, la seconda Dual Unit della Treasure Map, ovvero Smoothie Oven. Una Treasure Map non è facile né difficile, cioè ci sono dei mini boss molto facili, ma ce ne sono altri sul quale è meglio prestare particolare attenzione. Una Treasure Map che finalmente vede il ritorno degli altri personaggi della Treasure Map con un boost dignitoso, ovvero di un 1.2, anche se alcuni hanno sempre il boost di 1.1 e che secondo me proprio non ha senso, l'ho detto l'altra volta, piuttosto a non metterli, però finalmente possiamo sfruttare alcuni personaggi delle precedenti Treasure Map, e quindi finalmente se ne sono accorti. Ma la Global dà come la Global toglie, perché non si può avere tutto perfetto. Perché infatti purtroppo invece il sugo di questa Treasure Map è becerissimo, avendo spostato tutti i point booster garantiti, ad esempio il caso di Pound che in teoria sarebbe dovuto essere garantito al secondo multipool, adesso è spostato al terzo. E di conseguenza al terzo non potrete trovare la legend garantita. Quindi un sugo fest molto molto dubbio. Ma non siamo qui per lamentarci, siamo qui per vedere cosa fanno i vari boss e mini boss in questa Treasure Map, e soprattutto quali team utilizzare. Vi ricordo velocemente le regole di questo team building, di questa guida. troverete a fianco una lista di personaggi che vi torneranno utili contro quel particolare boss o mini boss, sottolineati troverete i personaggi che saranno fondamentali, personaggi chiave per affrontare quel particolare stage, e poi a un certo punto vedrete il mio team, il team che utilizzerò io. Non è obbligatorio seguirlo, semplicemente prendete il mio team da esempio, prendete uno scheletro del mio team, e poi andateci a unire i personaggi che avete nella lista. Sarà una lista di personaggi free to play e non. Quindi prendete il mio team, prendete i personaggi che avete in quella lista, e create il vostro. Perché come ho già detto più volte, il bello delle Treasure Map è proprio questo. Non c'è un team preciso, ma ce ne sono milioni di milioni. Ma passiamo alla sostanza. Con questa Treasure Map vediamo il ritorno. Finalmente, dato che nell'ultima Treasure Map quella di Nami si è fatta sentire non poco la sua mancanza, abbiamo l'Invasion. Quindi avremo un team in più da dover costruire, e ovviamente l'Invasion sarà Smoothie Oven. Smoothie Oven come boss finale sarà un personaggio rosso. Allo stage 2 potrete trovare due varianti, o Smoothie o Oven. Se troverete Smoothie sarà un personaggio giallo, boosterà il suo attacco di 1.5 e avrà un damage threshold di 4 turni. Qua, piccola cosa particolare, se avvelenerete Smoothie rimuoverà il suo attack up. Se invece troverete Oven, Oven sarà un personaggio verde, aumenterà la sua difesa di 200 volte per 4 turni e avrà un debuff di no defense. Quindi non potrete abbassargli la difesa, ma potrete comunque rimuoverla. Allo stage 3, ovviamente quello del boss finale, vi metteranno un chain lock di 1.2 per 3 turni, silence delle special per 2 turni e vi daranno tutti Bomb e Empty Orb. Non portatevi attack boosting, perché se farete un attack boosting nel boss finale, nello stage finale, rimuoverà quel buff e vi darà un attack down per 99 turni. Quindi non portatevi attack booster. Il primo team che vedrete è il team per le prime run, ovvero cercare di sfruttare più point booster possibili per avere più punteggio, mentre invece il secondo sarà un team un po' più serio per quando le cose saranno più difficili. E il primo team, ovviamente combattiamo il fuoco con il fuoco, ed è un team doppio smoothie Oven. Qui personaggi utili, ovviamente qualsiasi silence reducer, nel mio caso porto la bellissima e splendida swimsuit Violet, ma un personaggio che vi tornerà molto utile sarà Invasion Lillin, perché con i suoi tre turni di attack boosting, l'attivate nello stage 2 e avrete ancora il suo attack boosting nello stage 3 senza attivare la counter di smoothie Oven. Il secondo team è un team che va a scavalcare tutti i buff di difesa che si vanno a mettere, quindi perché contrastarli con delle special quando si può usare la bellissima Legend Carrot. Questo team non ha bisogno di appunto dei booster di attacco, perché ovviamente Legend Carrot è molto molto forte, semplicemente si cambia, si rerollano un po' di orb, tanto si ha tutto il tempo per stallare avendo solo tre stage, e appunto poi si attivano i vari orb booster, l'affinity boost del mio caso di Treasure Map Christmas Robin, e il gioco è fatto. Passiamo al primo dei mini boss, ovvero Bavaroa. Bavaroa vi darà due turni di attack down nella colonna sinistra, vi darà Badly Matching Orb, a destra vi darà Empty Orb, e avrà dei mob con due turni di Great Barrier. Qui un personaggio è fondamentale, ovvero Treasure Map Whitebeard, e costruiteci il team attorno. Ho visto tantissimi team doppia Treasure Map Nami per avere un po' più di punteggio, ma io Treasure Map Nami preferisco usarla da un'altra parte, come vedrete a breve. E il team che utilizzo io è un team doppio Legend Brook, con appunto Treasure Map Whitebeard, con Sixth Art Plus Shiraoshi per un futuro, quando ne avrò di bisogno, per darmi Full Rainbow Orb. Però appunto Bavaroa è veramente molto molto semplice da affrontare, potete utilizzare qualsiasi team. Passiamo adesso a Mondor. Mondor vi darà tutti i block orb, vi farà un rewind delle special del capitani e del personaggio nella linea centrale a sinistra, e vi darà un orb bind ai vostri capitani di 5 turni. Una volta sconfitto avrà un revive effect e vi farà 0.75 il suo attacco in damage, non è niente di che. In una global ideale, in una global che segue i ritmi della versione giapponese, quindi se è quella linea temporale che ha tracciato la versione giapponese, ci saremmo dovuti portare Treasure Map Doflamingo, che va a contrastare tutto quello che fa Mondor. Ma noi non abbiamo Treasure Map Doflamingo, quindi ci dobbiamo arrangiare. Il team che utilizzo io è un team doppio Legend Carrot, ovviamente Mondor ha la sfiga di essere rosso, quindi sguinzaliamo Legend Carrot. Con appunto, come ho già detto, Treasure Map Nami per darmi full matching orb, Treasure Map Christmas Robin come affinity booster, Raid Boss Kizaru per ridurre il cooldown di Carrot e Summer Reiju, anche se non è completamente boostata da Carrot, perché appunto è Summer Reiju, va portata e la regola Aurea. Quindi mi raccomando, cercate in questa Treasure Map di trovare un posto per Summertime Reiju, perché è Reiju, perché è in costume e quindi è un piacere per gli occhi. Siamo al mini boss più difficile e soprattutto fastidioso, ovvero Galette. Galette allo stage 4 avrà un mini boss, ovvero Brûlée. Brûlée vi darà 8 turni di Despair e vi farà uno special silence ai vostri capitani di 10 turni. Galette invece vi considererà i primary color, quindi gli orb rossi, blu, verdi, gialli e viola, come badly matching per 2 turni, e vi limiterà le special a 2 per turno. Sotto il 50% vi metterà una paralisi di 3 turni. Galette ovviamente è quello più fastidioso, ma c'è un solo personaggio che riesce a contrastare tutto questo, ed è ovviamente Legend Sanji Judge. Il team che utilizzo io è ovviamente un team powerhouse con appunto Friend Captain Sanji Judge, con lo Simneption per rimuovere il Despair, e con Niji, in questo caso Niji devoluto, per appunto dare full tandem orb. Così va a contrastare il preemptive di Galette. E poi vi attivate Sanji Judge, che con il suo switch effect si andrà a rimuovere anche lo special silence, attack, orb boosting, e il gioco è fatto. Vediamo per Ospero, per Ospero è molto banale, avrà un no di buff, un end of turn damage, e una barriera di 15 di combo. Non portatelo se possibile sotto il 50% e sotto il 20%. Come nel caso di Mondor, che ha avuto la sfiga di essere rosso in una treasure map con Carrot boostata, per Ospero ha la sfiga di essere verde con una treasure map, con 6 star plus Snakeman boostato. Quindi, dopo 6 star plus Snakeman, molto ignorante, personaggi rossi presi totalmente a caso, appunto l'unico che vi potrà tornare utile in questo team sarà Treasure Map Ace, ovviamente, per l'attack boosting, ma è veramente, per Ospero, molto semplice, molto banale, 6 star plus Snakeman se lo mangia colazione. Infine, abbiamo il boss finale di questa treasure map, ovvero Big Mom. Big Mom, allo stage 4, vi darà tutti i block orb e sotto il 50% vi ridurrà il chain di 0.3. Allo stage 5, l'Infingarda non sarà da sola, perché infatti sarà accompagnata dal suo figlio prediletto, ovvero Katakuri, quindi dovrete affrontare due boss nello stage finale. Avrà un anti-debuff per il delay e il poison, avrà un 70% di damage reduction per 3 turni, vi darà G e Bomb Orb e vi farà un lock di 6 turni nella bottom row, quindi ai personaggi nella fila bassa. Ma cercate di ucciderli tutti in un unico turno, perché se uno dei due sopravvive, vi farà delle brutte, bruttissime cose, quindi cercate di eliminarli assieme. E il team che utilizzo io è un team doppio Katakuri V2, molto ignorante, con ancora un'altra volta l'Inlin come personaggio chiave, perché non solo vedrà attack boosting, ma vi servirà per rimuovere il bind nella bottom row. Poi appunto, ovviamente, orb boosting e conditional attack boosting in Niji, perché infatti Niji vi darà conditional attack boosting contro i personaggi che hanno la difesa ridotta, ma in questo team c'è un piccolo trucchetto, perché infatti l'occhio più attento dirà ma tu non hai dei defense reducer qua dentro, sì ma non si vede, perché infatti questo team sfrutta la support ability di Flampy, quindi Flampy data o a Linlin o a Katakuri, quando attiverete la sua special, Flampy, con la sua support, riduce la difesa dell'avversario e quindi vi permette di portarvi un personaggio, un defense reducer, senza andarvi a occupare il team e quindi andare ad attivare la special di Niji. Poi questa era la guida e team building di Treasure Map Smoothie Hoven, mi raccomando fate tutto quello che ho detto all'inizio del video, se volete dei suggerimenti particolari su qualche team fatemi sapere nei commenti, se volete anche dare dei suggerimenti su come migliorare i miei team, ovviamente sono aperto a tutto, vi ricordo gruppo Telegram è importantissimo che vi uniate e noi ci vediamo alla prossima guida e alla prossima Treasure Map. Ciao! 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 Grazie a tutti.